sul seno sicumideo, così come facciamo una trazione dell'occipite per sentire l'asse centrale dove arriva il calzato, così qualsiasi trazione fate su una superficie, su un reglievo membranoso pensate a dove si inserisce questa membrana e dove arriva e la trazione vi fa capire quanto questa membrana è compressa, perché se io già faccio un temporal lift e qui non ci va tutta proprio, è tutta compressa, qui ci va, sentite che sbrina, che scivola fino alla profiligigulare fino al foro l'acero posteriore, ce la fa, è tutta libera questa linea, mentre qui ok tiro, incomincio a tirare il che, si decomprime, si decomprime, si decomprime fino a che libero tutto e quando avete liberato tutto, pensate ai semi, seno petrosio superiore, seno petrosio inferiore, che cosa dreno l'uno e l'altro, è tutto il foro l'acero, va pure al lavoro a scolare del drenaggio, assolutamente, quindi poi faremo il drenaggio dei semi, se riusciamo facciamo ormai anche il drenaggio, il lavoro di drenaggio, vi va? Sì, molto